La sirena frenetica Le rondini sfiorano leggeri il mio sguardo. Volano basse nel giorno di nuvolo davanti alla finestra al settimo piano di via Guidoreni. Giù sulla strada la gente passa stesa nel caldo. Qui in alto tutto è silenzio. Arriva lontana e subito vicina la sirena frenetica di un'ambulanza. Chi ci sarà là dentro? L'ambulanza spegne la sirena e va a passo d'uomo. Il paziente sta morendo e cercano di salvarlo con gli strumenti di bordo. Che rapporto c'è tra me e il moribondo? Commento Tutte e due fate parte del piano fisico. I tuoi fotogrammi fisici non sono finiti. Quelli del moribondo stanno per finire. Lui sta per divenire consapevole dei fotogrammi astrali. Di cui tu non sei ancora consapevole. Questa è un'ambulanza spegne la sirena. Questa è un'ambulanza spegne la sirena.